Nell'Itea Nell'Itea risiede il seme che si farà grande Cermoglio nutrito dal tempo Un'età post-apocalittica Sulle copertine dei giornali virtuali Più o meno, più o meno virtuosi La comunicazione sarà Senz'altro veloce, morbosa e efficiente Ma non dice niente Non dice niente Non dice niente Non dice niente Un'età, un'età post-apocalittica Dov'è la mia città, dov'è la mia terra Un'età, un'età post-apocalittica Un'età, un'età, un'età La comunicazione sarà Come un'astronave in cerca Dall'aldilà, 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 in cerca